Il Vangelo Si stima che in Italia ci siano circa 1,8 milioni di studenti, farsi in circa 88 atenei. Raggiungerli con il Vangelo è una vera sfida. I gruppi biblici universitari sono un movimento di studenti universitari che da oltre 60 anni opera all'interno dell'università in Italia. Al momento abbiamo una ventina di gruppi, coinvolgiamo circa 200-250 studenti che a loro volta raggiungono i loro amici non credenti. Il GBU è un raggruppamento di studenti che hanno capito chi è Cristo per la loro vita e hanno il desiderio di poter davvero condividerlo da studente a studente. Di tutta Italia e di tutte le chiese che nonostante appunto venissero da chiese diverse, da città diverse, alcune anche da culture diverse, erano molto uniti perché erano tutti intorno alla croce. Cerchiamo di mostrare di essere non degli studenti, dei cristiani, ma degli studenti cristiani che vivono appieno la loro fede. E poi nell'organizzazione degli eventi abbiamo cercato, cerchiamo di creare un ambiente in cui i non credenti, le persone che ci frequentano, anche magari per la prima volta, possano sentirsi a proprio agio e possano sentirsi anche liberi di esprimere la propria opinione senza timore di venire criticati e sentirsi giudicati a priori. Quando sono andato lì mi sono trovato a casa perché ho trovato delle persone che, al di là del fatto che erano cristiani come me, mi hanno accolto molto bene. A Foggia abbiamo concentrato la nostra attività soprattutto sullo studio biblico induttivo che teniamo in un'aula universitaria e poi cerchiamo anche di organizzare altri eventi, soprattutto cene, in modo tale da poter invitare i nostri amici e nel condividere poi Gesù insieme. Il G-Tube per me è lo strumento che mi ha accompagnato, che mi ha avvicinato alla parola del Signore, a conoscere Gesù, a conoscerlo come personale salvatore. Ho iniziato a sentire parlare del Signore, diciamo da una compagna di corso in università e attraverso di lei ho iniziato a frequentare, prima parlando con lei e poi dopo a partecipare agli incontri. In quel periodo si stava leggendo Il Vangelo di Giovanni e una sera sono tornato a casa e ho deciso che dovevo fare qualcosa per la mia vita. Ho pregato, ho chiesto al Signore di liberarmi da quello che era il mio passato, il mio peccato e poi da lì è partito tutto. Con il G-B-U sono stati anni veramente bellissimi, davvero hanno aperto la mia mente sia come credente e hanno davvero arricchito fortemente la mia fede. Comunque è stata un'esperienza che mi ha formato anche a livello personale. Posso dire che gli anni universitari insieme al G-B-U hanno creato anche la mia identità di adesso. Il G-B-U non è un'altra chiesa o un'altra istituzione, un'altra denominazione, ma semplicemente è proprio uno strumento che è al servizio delle chiese. Non è che entrando a collaborare con il G-B-U si distaccano da quella che è la loro chiesa locale e il loro impegno. Anzi, possono soprattutto non solo essere una testimonianza nell'università in cui si trovano, ma possono anche arricchire grandemente la comunità locale in cui si trovano. Come cristiani siamo chiamati ad essere una luce e una testimonianza dovunque ci troviamo. Come studenti universitari si ha un'occasione davvero da sfruttare, quella di poter far parte di un gruppo G-B-U. Quindi consiglierei a tutti questa bellissima esperienza. I professionisti, i politici, i dottori, gli insegnanti di domani sono oggi tutti all'università. Allora ti chiediamo di pregare e di sostenere il G-B-U affinché possiamo vivere veramente bene il nostro motto di vivere Gesù da studenta a studente. Allora ti chiedi. Grazie a tutti